Finisce in parità a rete inviolate il derby Prato-Aglianese. Al campo sportivo Adonelli di Montemullo le due squadre non riescono a superarsi. Meglio il Prato sotto il profilo delle occasioni create ma non finalizzate. Sapevamo che non era facile perché l'Aglianese è una squadra forte secondo me e abbiamo fatto quello che si doveva fare. Una partita che loro non hanno mai giocato, hanno sempre cercato di buttare questa palla sopra e poi andare a prendere le seconde palle. Noi siamo stati bravi a controbatterlo e spesso anche a giocare. Ho visto un buon sviluppo di gioco da parte della mia squadra. Sicuramente 3, 4, 5, 6 cross a tempo sono andati, soprattutto il primo tempo, sono andati dentro e bisogna avere un po' più cattiveria a metterli dentro. Però nel complesso sono contento della prestazione e di tutto quello che ha fatto la squadra. Il Prato comincia forte, qua si colpisce la traversa da fuori aria mentre l'Aglianese risponde con il colpo di testa di Fedi, alto. Ultimo brivido del primo tempo con un cross di Tomi che nessun bianco-azzurro riesce a finalizzare. Il primo tempo il Prato ci ha messo un po' in difficoltà, però tutto sommato non si è rischiato quasi nulla a parte questi lanci lunghi su Tomi che due bravi nell'uno contro uno, però la mia difesa si è comportata benissimo. Non devo dire niente, tra l'altro è la prima partita che non prendiamo go, questo è un aspetto positivo. Nella ripresa il derby è più vivo, Brunelli risponde presente sul colpo di testa di Rosati mentre il Prato si divora con Moreo la palla del possibile vantaggio. La squadra di Simone, sette soldi, prova ad accelerare. Quinto per Moreo, ancora impreciso. L'Aglianese si difende con ordine mentre il Prato si spenge con il passare dei minuti. Da segnalare un contatto sospetto in aria con Rozzi protagonista, l'arbitro lascia correre e l'ultima chance della partita, griffata aglianese con Dignozzi murato dalla difesa laniera, finisce 0-0 per il Prato e il terzo pareggio consecutivo.